Maria Laura Turco Nel 2021 di questo mese ci sarà il congresso dell'Associazione Luca Coscioni e quindi invito tutti quanti a partecipare perché sarà un'altra occasione così come questa Ice Bucket Challenge per parlare di SLA, per parlare di malattie rare, per parlare di libertà di ricerca scientifica. Nomino a mia volta per questa Ice Bucket Challenge Franco Giacomelli, Marilena Di Benedetto e Paolo Gerometta. Sto cercando di farla lunga però mi sa che adesso... Guarda come è scappato!